nuova live un nuovo arcade top hunter seguitemi nei canali che trovate in descrizione sia su youtube che su twitch buona twitch molto romanaccio rosa risa baby lock prima ti ho chiesto una cosa buonasera a tutti comunque vivi lock prima ti ho chiesto se volevi diventare mio mod visto che sia sempre qui il pomeriggio non ho mai un cavolo di mod per fare anche almeno gli s o dei cari streamer che entrano in chat ad ogni modo siccome c'è il caro il buon nolan in chat vorrei fargli vedere top hunter perché mi ha detto che non lo conosce ed è un titolo che secondo me vale assolutamente la pena di visionare approfondire quindi passiamo bando alle ciance alle minchiate tutto il resto vediamo sto top hunter ma guarda che secondo me rendendo lo se lo ricordi ti verrà puramente perché perché non è un gioco proprio sconosciuto un canale anale sempre neo geo eh questo gioco lega era era veramente difficile non è tanto tanto facile infatti sicuramente morirò una marea di volte perché non mi ricordo manco come cavolo si spara ora che volume ditemi se ha il volume troppo alto gioca a dei mondi devi dire tu se ti fa piacere lo problema era la peculiarità di questi tizi che allungavano le braccia quando one piece non era ancora mainstream si cambiava anche si switchava anche vedi in diciamo da una prospettiva all'altra infatti sono già morto come un cretino un cassetto in mezzo è lontanissimo proprio l'ho intravisto ma sai che li fa proprio e beh te l'ho detto che sono ah vaffanculo ma poi in sala giochi tra l'altro quando si poteva evitare di svegliare i tizi lo si evitava però qui non siamo in sala giochi quindi no vivi l'ho c'ho la nuova schedule ah questo quando si prendevano i robot spettacolo ah eh ti schiaccio io a te ma ti schiaccio no a mappare so mannaci Tutto pi... Oh, guarda la pixel art qua, che ci sta Oh, no No Cacare C'aveva pure il potere, quello Ma guarda che... A ViviLock piace retro gaming, anzi proprio ieri mi ha detto che... Che stavo giocando a... A Dino Crisis 2 Vedo Vabbè, i boss non mi ricordo proprio come si L'altro... Appena ho fatto la mossa di Terry Bogard Il boss Ah, vieni qua Dov'hai maledetto Dai Ah, guarda che... Ma guarda che ViviLock viene, viene da te Non avete notato un po' le mosse alla Street Fighter? Ah, guarda che... Ah, guarda che... Ecco, abbiamo risolto su due Appena suction Il boss Così ma tra l'altro bisogna stare attenti quando si salta perché ma non c'è bastardo più mosse ti fa dal fury sì sì noti bene l'ho anche detto l'ho fatto anche presente cugino talchielli di tazzi sì beh effettivamente questo allungare potrebbe essere rimandato anche a street fighter perché non è l'unica mossa che fa ma hai quasi distrutto il robot bastardo che figata raga quello l'ho schiacciato col robot non 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 No, no, no. Dai, salta di qua che ti schiaccio. Bravo. Oh! Allora, dall'altro questo qua ha anche la protagonista femminile, che però può essere usata solamente se si gioca col secondo giocatore. Non è selezionabile. Non è selezionabile. Non c'è il power, raga, spaccavi tutto in sto gioco. Il power era fondamentale per andare avanti. Ed il primo mondo è stato fatto. Quello della foresta. Era anche lungo questo. Queste sceneggiate così invece erano di... Erano stile Cameron Henry. Erano stile. ti piace allora Nolan? Sì, sì, sì. che robot manterà ovvi no, no, mi ha preso ah, ma che fai il cuore, mi ha schiacciato pure oh, no, dai, c'era pure la vita qui oh, innaccio oh, ho perso il power-up Porca miseria. E sono anche morto come un cretino. Ma perché non si fa nulla, cacchio? Ah, io ho bloccato il robot. Non se lo può prendere più. Questa era anche, diciamo, una sorta di picchiadulo, no? Pallato, po'. Vai, vai con la... No, mazzo. L'hai schivato. Paccatela! Ah, che godure ammazzare lì così. Misty! Infatti, top hunter, ragà. Alla fine, penso l'avrete ormai capito. Significa cacciatori. Cioè, sì. Sono cacciatori di taglie. Lì, mortacci tua. Alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda, guarda come ti hanno messo la cosa per fartela andare a prendere. Guarda, tra l'altro che provisci... Ah, è la stessa frase che ho scritto. Come cazzo si ammazza questo? No, guarda. Guarda, guarda. Sì. Oh, what the fuck? Oddio Parlando di sottomarini, Nolan Cacchio, non mi ricordo se Il doppio Il doppio power Facesse qualcosa Cosa? Che è successo? Eh, vabbè, però Sti cavoli di benedetti Cosa? 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 Sono? Cosa? 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 forse questo qua mi rientra proprio nel tuo prototipo bonus game me li ricordo ho preso il power almeno a Ho fatto la mossa di Di Terry Eh ma caccagare Come si prende Che hai pubblicato Chris Che ti ha bannato Link del tuo butt royal Ah ok ok Ecco va Te ne levati dai coglioni Sì ma non farti sospendere Di continuo Ma ti vuoi molto stronzi in materia Dovresti pubblicizzarlo Sul tuo canale però eh Mettici un bel banner sotto Ecco qua va bene L'hai fatto questa cosa qua si Oh ma è bella l'animazione Lasciami lasciami Oh ma è bella Non avete mai palle di vita Ecco là No ma hanno fatto perdere E mi hanno pure ucciso Non è possibile Nei ne qua c'è un po' Nah Nooo No cavolo Lo stavo per prendere Con le super botte Prendi di sto aduken in faccia Ah questo era un gioco Molto divertente Sulla sala giochi Fatemi sapere Cosa ne pensate Se l'avete giocato Magari nei commenti anche Del video youtube E' o'è La via che ho Sulla Il video Y'w Teletta Ero Catemi Ero i maledizi ti fanno sempre un mal... oh vieni qua, dove vai? mi tacite ste bombe... bello che si dicono ma dov'è questo? è qua stronzo, vieni a vola la chiappa oh mi ricordo questo livello bonus... no ma... no il power... ah chiarola... questo livello praticamente sbaglio un colpo... perdi tutto nooo... nooo... ah ma quando sono normale non gli spacca i sassi da come ho capito... me l'ho capito tardi insomma... il pirata bo-bom... nooo... nooo... si... nooo... nooo... il portascio suo... nooo... 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 E' quasi raga impossibile schivare quel laser Ah vabbè però cacchio Nooo dai è la volta che non volevo raccogliere la bomba E' difficile sto boss Ok quando fa così devo stare sotto di lui No vai a chiacca Dai oddio ti mori dai Un picoglione antipatico Guarda come esplode in lontananza Molto alla metà slug questa scena Ultimo stage fuoco Oh 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 Dammi le cose da mangiare Ottimo Insalata di pollo Insalata di pollo di là non si va pensavo che ci fosse il livello bonus dai 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 che non mi fai niente col robottone dai dai vieni volesse ti piacesserebbe dai zompa zompa ah bastardo non 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 Olè! No, non mi sparire No, mi è sparito Ah Un giovanotto invertito, mi sa In che senso è un giovanotto invertito, Crystal? Ma perché si è levato il chatbox da qui? Chi l'ha tolto? Oh Gesù Ah ecco C'era Perché non uscivano i cosi? Giovanotti al posto della D dice F dalle volte Al contrario A posto della F Della F È così Sei tornato, ViviLoc Prova a scrivere qualcosa, ViviLoc Scappia tu e la bomba? Allora 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 Dai Ecco qua Sì no ma ti vedo Ti vedo scrivere però non capisco Perché non ti ha dato il logo del moderatore Dovresti avere il logo del moderatore vicino Sì no ma ti vedo Non lo vedi nemmeno tu Acchio ma ho ucciso Non lo vedi nemmeno tu Maledetto Allora A te Ah finiti i pianeti c'è Oh questo fa molto Galaxy Express Che mi ha fatto a prendermi Die Allora 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 Come cavolo si superano questi Non così Allora 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 Ho fatto fare come un cretino... Ah, dai, è un video così. Beccati sto cappettone... Ecco come si ammazzano questi... Però ti fai male... Ehm... 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 Ah, ti fanno male... Pensavo si potessero prendere... Cacchio, ma l'ho ucciso... Ehm... Sono insieme di tutti i boss... Ehm... 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 Devi schivare... Devi... Fagli le onde... E schivare le cose che ti buttano... Cercando di non finire davanti alla cosa... Ehm... 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 Figata di animazione questa, eh... Molto molto retro... Old school fatto bene, però... Ehm... 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 Che di scassa... oh molla mi cacchio mi ha mangiato oh cavolo vai a cacare bravo ritirati mannaggia ok gli devo dare l'ultima botta no vai a cacare una situazione del genere in sala giochi sarebbe stata proprio e va oh hai capito ah questo ti schifo i cosi ok oggi ho capito come madonna come sei facile boss ah questo serviva a rubare i gettoni e basta capitano mio capitano uuuu e che vabbè veloce questo è era impossibile da fare in sala giochi questo a meno che non conoscevi un trucco per farlo era impossibile ok il finale di questo gioco non me lo ricordo particolarmente eh quanti punti roberto scappiamo scappiamo a breve ci vado a vedere questa ma questa mi sembra come mai degli 883 e mai ma chi sarai da l'ansiede meccan da l'ansiede meccan eh è vero vivlock mi somigliava a un botto all'inizio poi ho detto ma che cacchio gli 883 hanno collaborato mi sono rimasto un po' male a scoprire che non è proprio quello da quello che dorme ma chi sarai per stare insieme qui non ti intere aspettate 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 SNK ragazzi questo è un titolo del 94 e devo dire che ero davvero davvero piccolo cos'è quella cosa crista andiamo a vedere che ho messo su Stranger Screen che cacchio è? ma che roba è? ma lol è un insieme di robe vabbè comunque raga come sempre vi invito a passare per i miei social per i miei canali trovate tutti i link in descrizione sia su YouTube che su Twitch se volete supportarmi trovate anche i banner di Amazon e Instant Gaming dove potete comprare le vostre cose senza costi aggiuntivi io vi ringrazio per aver visionato anche Top Hunter un titolo veramente che univa un po' il platform anche il picchiatura a scorrimento c'erano dei richiami anche a giochi come Street Fighter, Fatal Fury eccetera eccetera ringrazio chi sta in live e mi sta seguendo in live anche adesso lo invito a restare ulteriormente perché faremo il terzo e ultimo gioco prima di passare poi nel dopocena anche se penso che ci sarà tempo mi troverò con qualche ora di spacco prima di passare poi al talk show a tema PlayStation detto questo non ve ne andate dalla live vi lascio uno stay nerd, stay pizza grazie ancora per aver visionato questo video Top Hunter Grazie a tutti 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 Grazie a tutti